A seguito della delibera di giunta comunale, ieri mattina si è tenuto l'incontro per la firma dell'approvazione della convenzione annuale tra il Comune di Imperia e i soggetti gestori dei centri di accoglienza temporanea per migranti, autorizzati dalla Prefettura e presenti sul territorio imperiese. La firma è avvenuta alla presenza del Sindaco Carlo Capacci, dell'Assessore ai Servizi Sociali Nicola Podestà e dei rappresentanti dei centri Cooperativa Alfaggio, Centro di Solidarietà all'Ancora, le cooperative Progest, Goccia, Jobel e l'Associazione di Promozione Sociale Io Sono. Il Comune di Imperia sigla per il terzo anno consecutivo un progetto di integrazione che ha visto un aumento dei gestori dai due del primo anno fino ai sei del 2018. I migranti hanno aderito ai passati progetti e hanno preso parte, a titolo di volontariato e gratuito, ad interventi quali pulizia delle spiagge, pulizia dei giardini toscanini, pulizia dei cimiteri, manodopera per lavori eseguiti nei portici di via Bonfante e nella manutenzione della passeggiata a mare a Doneglia e Porto Maurizio. La convenzione firmata ieri mattina rappresenta un momento di integrazione attraverso percorsi di inserimento e confronto sociale e culturale.